Colazione insieme? Senza impegno? C'è un ritardo. Come non detto. Magari possiamo cenare insieme stasera. Magari. Allora ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Stasera. E chi ci arriva stasera? Salve. Via Turano 35. Mi scusi a fretta. Via Turano. Località sconosciuta. Prego ripetere l'indirizzo. Via tu Turano. Via tu Turano. Se la destinazione è corretta, dica sì. No, ma... Località sconosciuta. Prego ripetere l'indirizzo. Senta, io lo so dove. Se vuole la vedo io. No, non so. Un navigatore. Ho capito. Via Turano 35. Via Turano 35. No, lo devo dire io. Inizialta, basta. Io non ho tempo da perdere. Va bene, scendo qui. Sarà l'automobile. Portiena, aperta. Portiena, aperta. Portiena, aperta. Portiena, aperta. Portiena, aperta. Ma chi ha preso la porta? Ma se dà? Buongiorno. Buongiorno. Ma che è oggi? Ma è un incubo Dipende dai punti di vista Restare chiuso in ascensore con una donna bella come lei Per me è un sogno Senta la smetta tanto a letto con lei e non ci vengo Non chiede tanto Scusi ma che ha detto? Mi dispiace che... Allora c'è speranza Scherzavo Tutto oggi Non funziona niente, non funziona C'è qualcuno? Ci sono io Faccia di me ciò che vuole Scaletta Prego A cipicchia Ho le ossa grosse I tacchi a spillo Monsignore Mamma Norte Mi del cono Già Del con